Di volta in volta prelevava la droga, nascosta dentro le vasche dell'acqua potabile nell'androne di un palazzo di via della Concordia, per poi piazzarla al tondicello in cambio di denaro. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno così arrestato in flagranza il 27enne catanese Salvatore Pulvirenti, ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Bloccando il pusher e perquisendolo, i militari gli hanno trovato in tasca 70 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita della droga, recuperando inoltre all'interno delle vasche circa 10 grammi di cocaina, di cui una parte ancora in pietra e l'altra suddivisa in dosi. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l'arrestato attenderà la direttissima ai domiciliari.